Continua spedita la marcia playoff del Città di Mola che sfrutta dovere il turno casalingo superando 3-1 in Real City. Sfida tutt'altro che semplice per il team di Carella che ha dovuto faticare più del solito per avere la meglio sull'ostica con pagine foggiana. Si gioca al Diomede del quartiere San Paolo di Bari e dopo appena 80 secondi il Mola trova la via del gol. Assist filtrante di Daniele a gancio di Zonno e sinistro vincente che non lascia scampo all'estremo ospite. 1-0 per i padroni di casa ma Real City che torna subito in partita. Al quattordicesimo Pelosi non approfitta di un pasticcio difensivo e manda clamorosamente alto. Al ventunesimo il meritato pari dei foggiani. Lancio lungo di Paolillo, stop perfetto di Pelosi che tutto solo insacca l'incolpevole Ancona. 1-1 e Città di Mola in evidente difficoltà. Al venticinquesimo Real City ancora pericoloso con il destro di Fatone dal limite. Ancona non si lascia sorprendere. Il Mola dopo una fase di impasse prova a scuotersi al 32esimo con una mischia in area ospite e la sfera che tocca anche il palo. Poi al 37esimo ci prova Daniele dalla distanza senza impensierire l'anzetta. Si va a riposo in parità. Nella ripresa il Città di Mola entra con più furore agonistico e fa sua la sfida. Al 48esimo Genchi si divore il 2-1 a due passi dalla porta ma al 65esimo è tempo di raddoppio molese. Paolillo perde una palla sanguinosa in difesa per mano di Diagnè che calcia all'angolino lontano dove l'anzetta non può arrivare. Mola in vantaggio e che cala il Tris quattro minuti più tardi con una perla di Gennaro Manzari che dal limite lascia partire un pallonetto perfetto che si infila sotto il 7. 3-1 e gara in archivio. Nel finale accade poco, nulla e il Città di Mola può festeggiare altri tre punti preziosi in chiave playoff. Decisiva per la proda di spareggi promozione sarà l'ultima gara della regular season tra i ragazzi di Carella e il Corato.